Vede, sul ponte sullo stretto ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi. E ricordo che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia al gasolio. Di fronte a questa situazione non vorrei spendere miliardi di euro per un ponte in mezzo al mare. Lei, Ministro, sa che questa frase non l'ho detta io, vero, Ministro Salvini? Perché questa frase l'ha detta lei. Questa era la prima reazione, shock! Quindi non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono. Vanno a binario unico?